Circolare ENS numero 6309 del 23 dicembre 2022 Monitoraggio competenze lavorative sordi disoccupati, compilazione questionario Egregi presidenti e commissari straordinari La sede centrale ENS Area Lavoro ha predisposto un questionario Al fine di realizzare un monitoraggio sulle potenzialità, competenze e situazione lavorativa dei sordi disoccupati Con l'obiettivo di elaborare strategie migliorative concretamente applicabili Da condividere e riportare in occasione dei tavoli tecnici ministeriali Riunioni dell'osservatorio, incontri istituzionali e tutte le altre sedi competenti ed opportune I dati raccolti saranno inoltre oggetto di riflessione e confronto In occasione del convegno nazionale sulle problematiche del lavoro che ENS intende realizzare prossimamente Le domande del questionario sono state elaborate e pensate insieme ai membri del Comitato Scientifico Legge 68-99 Chiediamo quindi la vostra collaborazione in qualità di dirigenti locali dell'ENS Affinché il maggior numero di sordi compili il questionario accessibile online al seguente link Il termine ultimo di compilazione è il 31 marzo 2023 Ringraziando anticipatamente per la collaborazione L'occasione è gradita per rinnovare gli auguri più sinceri per un sereno Natale e felice anno nuovo A voi e alle vostre famiglie